E questo rappresenta il futuro dell'Airbus in quello che è forse l'industria più competitiva al mondo. La vostra determinazione nel voler produrre sempre qualcosa di meglio si vede nell'A350 e in ogni nuovo modello della famiglia Airbus creato nel corso degli ultimi 40 anni. ...miliardi di euro di investimenti. La Airbus ha puntato alto per vincere la scommessa. Ma al di là della tecnologia, la storia di quest'aereo è anche un'avventura umana su scala europea. Migliaia di ingegneri, piloti e tecnici di nazionalità diverse hanno lavorato insieme. Gli hanno dato vita a questo aereo con passione, dedizione, fierezza e anche sacrifici. Non oso dire che è un po' il mio bambino perché non sono solo. Qui c'è uno spirito di squadra, ma mi sono comunque molto affezionato. E quando lo maltrattano un po' troppo, mi dispiace. Per me è stata una vera fortuna che mi è stata concessa. Ho cominciato a promuovere quest'aereo presentandolo con delle slide. E oggi sono degli aerei veri. Perciò sono felicissimo. Lo facciamo per passione, ma è comunque un gioiello tecnologico. Un aereo adatto al ventunesimo secolo. Immaginate che da un giorno all'altro vi dicano vi regaliamo una Ferrari. Voi la tratterete bene, la laverete, la curerete e vi chiediamo una cosa sola, di testarla e di farla camminare. Ecco, questo è un po' il regalo che ci fanno regolarmente. Chiaramente con l'A350 si entra in un'altra dimensione e sentirci parte di questo programma è stato molto elettrizzante.